Beh, noi oggi abbiamo Filippo Giannini che ritorna, noi credo che andiamo a Piazza Affari, però lascio la parola a lui che ci illustra la nostra operatività odierna, target, stop, motivazione. Ciao Filippo! Sì, ciao Pietro, buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, strategia di oggi su Piazza Affari, sul Fuzzimib. E' chiaro che cerchiamo di cavalcare l'onda rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri, quindi con la ripresa dei listini di Wall Street, già hai detto bene tu, insomma, tra i nati dalle parole tutto sommato accomodanti della Fed, per quanto riguarda, diciamo, è vero un raddoppio della velocità del tapering, però di fatto tassi fermi fino a che le condizioni del mercato del lavoro non saranno soddisfacenti, senza entrare troppo nel dettaglio e questo secondo me ha fatto la differenza, parole che sono piaciute particolarmente ai mercati, mercati che, se vogliamo, nei giorni precedenti avevano dato una visaglia alla Fed di cosa sarebbe successo in caso di un tapering troppo repentino, in ogni caso di un'accelerazione alla stretta monetaria. Quindi parole di ieri che sono andate incontro, secondo me, a quello che era, insomma, l'aspettativa dei mercati, ripresa, insomma, ecco, partita da comunque da livelli di supporto che tutto sommato il mercato aveva rispettato. Per quanto riguarda il Futsi Mib, già dalla giornata del 14, quindi la giornata del 14 dicembre scorso, mi era piaciuta molto questa reazione che, insomma, dopo il falso breakout dei minimi del 13, quindi breakout che era stato riassorbito dai minimi intraday e da lì era partita un nuovo impulso rialzista, culminato poi nella serata di ieri, appunto, con questa mossa, insomma, con i pressi vicino ad area 27.000 punti. Quindi oggi, a seguito dell'apertura in gap up, cerchiamo un'entrata long, aspettando appunto un pullback che peraltro è già avvenuto a quota 26.940, ha abbassato leggermente il livello per avere l'eseguito dopo le ore 10, quindi è un buy limit sostanzialmente già scattato, a quota 26.940, lo stop è sul supporto intraday di ieri, ovvero quota 26.730 punti, il target è a quota 27.200 punti. Grazie Filippo, grazie Filippo per la spiegazione. Sì, credo che la Federal Reserve ieri sera si giocava molta, molta della sua credibilità, perché se da una parte, come dici tu benissimo, il mercato non avrebbe accettato, por leggero, un inasprimento dei tassi di un rialzo, dei tassi di interesse, dalla parte opposta credo che non avrebbe neanche accettato un tapering blando e un Powell ancora accomodante, ancora colomba. Credo che la Federal Reserve ieri sera si giocava la sua credibilità, non bisognava tornare indietro, questo è il mercato, l'ho apprezzato e l'abbiamo visto appunto con la chiusura sui massimi e ormai l'S&P 500, come diceva all'inizio del nostro intervento, che credo vada a vedere, vada nuovamente a superare i suoi massimi di sempre e questa ancora una volta ci conferma come il 2021 è stato l'anno delle occasioni da sfruttare per quanto riguarda le fasi correttive appunto per entrare sul mercato. Prima di lasciarti a Riccardo, ti chiedevo per quanto riguarda quello che ti aspetti oggi, per quanto riguarda la guarda, credi che continuerà la sua, praticamente le sue parole che sono rimaste sempre molto accondiscendenti nei confronti del mercato, anche qualche settimana fa l'abbiamo vista, parlava nel caso in cui l'economia del vecchio continente ne avesse bisogno di un possibile anche PEP nel 2022, quindi credo che questo mercato oggi andrà a guardare molto attentamente, a sentire molto attentamente le sue parole e sicuramente, mi immagino, non rovinerà queste ultime settimane sui mercati. Sì, su questo sono assolutamente d'accordo, non mi aspetto mossi a sorpresa da parte della BCE, proprio per i motivi che hai giustamente sottolineato tu, quindi è chiaro che se anche il PEP dovesse andare a scadenza, sicuramente sono già pronte delle contromisure per mitigare gli effetti di questo programma di acquisto titoli e quindi per procedere, detta in parole povere, comunque per un processo estremamente graduale della normalizzazione di politica monetaria, anche perché insomma ecco la situazione in Europa per quanto riguarda la ripresa economica non è ai livelli americani, quindi c'è ancora bisogno a mio avviso di misure di stimolo e quindi come diceva giustamente in apertura Riccardo, se non fa nulla di eclatante la Fed, figuriamoci se la BCE possa andare insomma a fare qualcosa di nuovo o comunque di non auspicato, questo sicuramente. Grazie, grazie, grazie Filippo, ti lascio a Riccardo. Una cosa che vorrei chiederti, che mi è sembrata un po' strana all'interno di quanto stiamo dicendo di Fed, BC eccetera, è stata quella moral suasion giunta un paio di giorni fa dal Fondo Monetario Internazionale alla Bank of England, è davvero inusuale perché gli ha detto attenzione non perdete altro tempo, non cincischiate, non tergiversate nell'alzare il costo del denaro. È un'invasione di campo? A me è sembrato inusuale come cosa, anche perché non è stato fatto lo stesso nei confronti della Federal Reserve o della Banca Centrale Europea. Ma sai, questo poi insomma bisogna sempre valutare caso per caso di cose inusuali a mio avviso nel corso degli ultimi anni, ne abbiamo viste e insomma continueremo secondo me a vederle. No, è chiaro che comunque sia, c'è da dire che cosa, che comunque sia per quanto riguarda questo processo di normalizzazione di politica monetaria, per alcuni immagino insomma anche per il Fondo Monetario Internazionale si possa essere già andati un pochino oltremari, non tanto in Europa quanto sicuramente per gli Stati Uniti. Powell è stato bacchettato a più riprese anche nel corso dei mesi scorsi per diciamo non aver già optato per una stretta monetaria, quindi è chiaro che poi in contesti come questi con l'inflazione che galoppa c'è sempre insomma uno scontro tra i cosiddetti falchi e le cosiddette colombe, no? E quindi sì, insomma sono d'accordo con te, invasione di campo, le ragioni per le quali insomma ecco possa essere stato auspicato questo intervento su Bank of England e non invece da parte di Fed, BCE, questo onestamente non lo conosco, però diciamo ecco anche nel corso dei mesi passati insomma anche esponenti della Fed insomma avevano dichiarato di come ecco si dovesse già essere optato per un processo di normalizzazione dei tassi e quindi ritengo che in quello che è il contesto attuale è un dibattito che assolutamente ci sta. Ascoltami, nell'andare a rivedere quella che è la strategia che hai proposto ti chiederei di andare anche a ripetere i livelli, vorrei vedere con te come ti stai, allora tipicamente questa è una fase dell'anno in cui l'investitore professionista, non dico che va in chiusura delle operazioni, ma comunque fa un po' il punto su quello che è stato l'anno, su quello che potranno essere in base alle diverse tendenze macroeconomiche di politica monetaria, di aspetto anche geografico e geopolitico, una revisione del portafoglio, come vai a chiudere quest'anno sull'Italia e che view hai non per la giornata, non per la settimana, non per il primo mese eccetera, con uno spaccato un po' più di ampio respiro che view hai nei confronti del nostro paese. Ieri Mario Draghi si è confermato dell'Unione Europea, basta pensare la vastità della CIP che gli è interessata rispetto ad alcune dichiarazioni provenienti dall'Europa che invece in passato magari potevano mettere in croce alcuni leader, sto facendo riferimento a quella alzata un attimo di scudi avuta dall'Europa sul Green Pass, soprattutto l'accesso e libera circolazione delle persone all'interno dell'Europa a cui Mario Draghi ha risposto con una frega niente. Sì, è vero, l'ho notato anch'io questo, insomma, vabbè, ma secondo me lo spessore di certi leader passa anche da atteggiamenti come questi, cioè non dico, insomma, che per carità non si debba porre attenzione, però magari su certi temi, insomma, secondo me fa bene Draghi a viaggiare con molta prudenza perché, insomma, ecco, l'obiettivo secondo me primario è quello di comunque sia proteggere, no, l'economia e quindi è chiaro che il 2021 è stato caratterizzato da una ripresa fin qui ottima e sappiamo, insomma, ecco, che con queste varianti, che purtroppo lo dobbiamo dire, insomma, ecco, prendono piede in paesi dove la copertura vaccinale è comunque sia assolutamente insufficiente e questo secondo me è un fenomeno che va sottolineato, però secondo me è giusto prendere tutte le precauzioni necessarie, insomma, ecco, affinché poi si possa andare a scongiurare nuove chiusure e nuove restrizioni. Detto questo, per quello che è l'outlook nel corso del 2022, è chiaro che io se dovessi fare una previsione non mi aspetto, insomma, un mercato che è in grado di correre così tanto e così, come dire, monodirezionale come è accaduto nel 2021. Io credo che, ma l'ho detto già in altre occasioni, che quanto abbiamo visto sui mercati nel corso di queste ultime due settimane comunque sia possa essere un antipasto di quello che ci attende nel corso del 2022, nel senso che è chiaro che con una stretta monetaria e quindi con tassi in rialzo tutta questa mancanza di liquidità, insomma, ecco, che le banche centrali hanno fornito al comparto azionario andrà in qualche modo a farsi sentire. Questo non significa che io mi aspetto un 2022 caratterizzato da rendimenti azionari negativi, però secondo me non accadrà neanche quello che abbiamo visto quest'anno, ovvero che ad una minima correzione dell'1-2% questi minimi vadano ad essere immediatamente ricomprati. Magari, diciamo, ecco, sarà comunque sia un mercato improntato di fondo, sempre a rialzo, però magari abituiamoci a correzioni più marcate come quelle viste nell'ultima parte dell'anno e non invece ad una, come dire, salita monotematica come quella che abbiamo visto all'inizio all'inizio del 2021. Questo è quello che mi aspetto. Ascoltami, una cosa, per quanto riguarda i livelli, la regione mi dicono che hanno avuto dei problemi, ti chiederei quindi di andare a redirci così li segniamo anche da un punto di vista grafico. Sì, allora, l'ingresso è un buy limit a quota 26.940, lo stop loss è a 26.730 e il target è a 27.200 punti. Perfetto, guarda, direi che siamo precisi, arrivati al termine, in bocca all'uvo per questa giornata che ti attende con la BC e via dicendo e soprattutto, visto che non credo che ci vedremo ancora prima della fine di questo 2021 con InvestiV, grazie per essere stato con noi, passa delle buone feste, te, la tua famiglia, riposati e pronta a combattere anche il prossimo anno. Assolutamente, io ti ringrazio Riccardo e anche da parte mia, migliori auguri, buon Natale, buone feste, saluto anche Pietro Riglia, anche a lui tantissimi auguri e speriamo di rivederci su questi schermi anche nel corso del 2022. Ciao Filippo, grazie, certo che ci rivedremo.